cari amici buongiorno e benvenuti sul mio canale oggi un video dedicato a chi vuole iniziare questa disciplina dello scelpinismo e se come l'anno scorso dicevo che il Nevegal è un luogo dove si può iniziare anche qui in piancavallo si può tranquillamente iniziare approcciando facendo le prime tra virgolette prove di quello che è lo scelpinismo allora come avete visto prima qui ci sono dei camper abbiamo parcheggiato di vicino e proprio dietro il parcheggio dei camper parte questa stradina che ci porterà prima verso baita arneri e dopodiché volendo verso mal dei sas che è il posto più alto che si può raggiungere con la seggiovia del comprensorio del piancavallo che dire non sarà tantissimo dislivello però chi vuole iniziare ha comunque poi le piste per scendere quindi sicuramente è un ambiente più sicuro e controllato ecco quindi diciamo che approccerà all'inizio qui con le tecniche di salita e poi per la discesa comunque può sfruttare la discesa sulla pista come sempre comunque vi ricordo di iscrivervi al canale e iniziamo questa bella stradina non sarà lunghissima però insomma diciamo che per le prime esperienze sicuramente un toccasana questo tipo di itinerari oggi comunque faccio un po di tra virgolette scarico dato che ieri sono andato in alpago ci siamo spinti verso quella che è la val grande e se non avete visto il video link al video questo in alto che sicuramente è qualcosa di spettacolare condizioni neve abbastanza al top un po pesantina ma sicuramente sicuramente uno spettacolo unico comunque anche qua vedete quel po di neve che ci garantisce una salita davvero stupenda in mezzo a questo bosco bene amici guardatevi il video e a dopo come vedete siamo sempre abbastanza vicino alle piste baita armeri è appena qui dietro e a questo punto prendiamo un piccolo c'è sempre insomma la traccia di sale verso destra che ci porta poi avanti delle sasse che è l'ultimo punto come dicevo prima dove arrivano gli impianti quindi qua si può fare anche un po di scuola di versioni c'è qualche versione a fare qualcosina di semplice è qualcosa che aiuta a prendere confidenza con ogni sci d'alpinismo insomma quindi poi alla volta prendiamo il via e facciamo questo sentierino e prendiamo la confidenza con con il mezzo uno e uno e l'altro bene che ci siamo arrivati in vista del nostro obiettivo comunque vedete sta anche un po nevicando e adesso metto su la giacca perché dirà c'è vento forte scendo giù vado verso appunto quello che è il val dei sas e poi scendiamo per la pista oggi facciamo un po meno fatica ed eccoci arrivati all'impianto val dei sas come vedete qui c'è un panorama incredibile guarda davvero guardate il spettacolo sta un po tirando su tempo un po nevicando un po nevischiando un po niente di che purtroppo comunque tornando a noi e nel video allora fate quel tratto lì dove vi ho detto fate le virate poi c'è una stradina che vi porterà praticamente fino a qua quando arrivate poi in cima al pezzo più alto del sentiero diciamo dovete scendere per una ventina 30 metri così così prendete confidenza anche con il fatto di scendere con il tallone aperto e con le pelli su perché lì in genere non è che si tolga la pelle per fare quel piccolo tratto anche perché poi bisognerà risalire per arrivare fino a qua e quindi sì è veramente una cosa un sentiero diciamo escursionistico però che ti dà la possibilità di affrontare tante cose diverse dello sci alpinismo in piccole piccole dosi diciamo però comunque ti dà la possibilità di provare un po di tutto no? il che è molto simpatico e bello poi comunque non è tanto di slivello adesso adesso circa 600 metri di slivello anche un po meno quindi volendo si può anche scendere e risalire comunque non so si trova un tratto dove si ha un po di difficoltà magari si torna giù fino a quel tratto e si riparte da lì si risale quindi sì è molto interessante questo discorso comunque adesso dato il vento facciamo la pista e scendiamo verso verso valle dove abbiamo la macchina ragazzi sto scendendo non si vede una madonna però dai ragazzi sto scendendo ragazzi sto scendendo cari amici il video termina da un altro panorama che vedrete e capirete da un altro video purtroppo ahimè la pista che scendeva verso l'Arneri era chiusa e quindi ho dovuto scendere di più verso verso la Busa praticamente perché perché per rimanere in pista insomma e scendere di là comunque dopo arrivati in fondo basta risalire un attimo sulla sinistra sulla piccola pistina che troviamo alla sinistra e da lì poi si rientra fino alla macchina e si non ci si può perdere insomma ma che vada se uno proprio non si capisce arriva fino alla strada la strada la strada toglie gli scarponi si fa 300 metri a piedi anche se in salita è un po' quindi ragazzi io vi saluto da questo posto qua che vedrete prossimamente sempre con un'altra escursione semplice per chi vuole iniziare e approcciarsi a questo mondo ci vediamo alla prossima video iscriviti e like condividi ciao ragazzi ciao